Avviare una cooperazione rafforzata tra Germania e Italia è stato uno dei principali propositi fissati nell'incontro tra il ministro degli esteri italiano e la sua omologa tedesca a questa lunedì a Roma. Al centro dei colloqui è anche clima e migrazione, la più stretta attualità kazaka. È chiaro che non è nell'interesse dell'Europa che questo paese dell'Asia centrale diventi completamente dipendente dalla Russia o dalla Cina. Avremo e dobbiamo avere un serrato dialogo a livello europeo, così come tra i nostri due paesi. Stessa preoccupazione per il destino del Kazakhstan è stata espressa dal ministro Di Maio, sebbene con termini meno espliciti. Ovviamente stiamo chiedendo con forza che le violenze cessino immediatamente e che vengano rispettate a pieno i diritti della popolazione. Altro importante tema di confronto all'immigrazione, la ministra Baerbock ha proposto di lavorare insieme per una politica comune di asilo sostenibile, considerando inaccettabile lo status quo con migliaia di morti nel mar Mediterraneo.